potere pelato buonasera a tutti eccomi direttamente dal cinema come se non ci fosse un domani pronto a discutere con voi di uno dei film più attesi e discussi della stagione capolavoro merdaccia film inarrivabile film un po me non lo so però ne parliamo se volete ciao gas gas ciao silvio ninja bentornati in questa fantastica live pelata dove non faremo una mazza e chiuderò fra cinque minuti tra l'altro non volevo andarci al cinema oggi perché pioveva poi ho detto no ci vado basta vado lo stesso così pago meno 6 euro 6 euro ottima cifra ma per scaldare gli animi prima di parlare di cose per questo film vale lo stesso discorso per di caprio non ho capito leggo un sacco con i 92 buonasera programmi della live non lo so si chiacca oggi chiaccheriamo quindi chiaccheriamo live just chatting just chatting senza un cazzo perché non ho voglia di più cioè avrei il sacchetto dei fumetti ma lo vediamo domani perché non ho voglia di farlo oggi e quindi me lo tengo per domani si chiacchiera vi faccio come e mattia non ho capito la battuta ma ok sono d'accordo comunque meno male perché quel film di Miyazaki penso che se l'avessi visto a casa cioè il vincere all'oscar non è il miglior film di Miyazaki così come ravenet non era la migliore parola di dica ma una certa dovevano darglielo beh ci starebbe sono d'accordo però effettivamente non è secondo me certo il miglior film di Miyazaki che per me rimangono la città incantata ma non ho che Ime quelli di quel periodo lì però e non lo so non lo so però prima c'era una discussione che ho visto sul gruppo tab che faceva questa discussione qua su questa cosa qua aspettate che ci arrivo aspettate aspettate arriviamo subito non c'è dove aspettate e ciao Giulio oggi nel 93 penso che fossi tu tu hai detto delle cose delle cose non la trovo ah ecco amica quanti ce ne sono ma tra l'altro c'è la versione ancora più rara che tu hai fatto vedere quella da 95 ma non quella da 195 del numero 2 però sarà piena quando sono andato io una volta era impensabile da me eravamo in due forse tre no forse sono entrati un paio di persone ma se ne sono andate via quando ho girato la testa a fine film però è quasi finita cioè nel senso il film è uscito da due settimane è il 17 è uscito l'uno e no è che mercy a parte che è uscito in un po' di versioni mercy come potete vedere e c'era la versione da 12 euro quella da 14 euro quella da 100 euro e quella da 200 euro l'unico esaurito è quello da 200 euro dell'uno ah no anche l'uno normale sono ancora disponibili tutte le altre direi sono passati quasi quattro anni anzi alcuni proprio quattro perché è il 2019 io ho preso la domanda la nuova edizione di Giorgi già sta sui 100 euro grande però devi trovare qualcuno che se la compra leggo un sacco mi sono perso la recensione del film no no la live è iniziata da quanti minuti scusatemi a parte che non faccio la recensione dirò due parole discutiamo anche insieme se volete non avevo aperta la live sull'altro schermo ma la live è iniziata esattamente da 7 minuti considerando la pre-live grazie all'orecchia per aver guardato 7 trasmissioni consecutive complimenti sei un vero pelato presto ti cadranno i capelli comunque dovete comprare le variant della nuova edizione di Giorgi non sapere nemmeno che esiste cioè Ishi ha fatto ma chi se la incula perdonami con tutto il rispetto per Ishi e per le variant bellissime che producono qualcuno si incula la variant di Giorgi veramente? allora omnibus variant limitata 200 copie esaurita 0 offerte puoi comprarla a 80 euro questa sta a 49 euro 0 offerte 120 compralo subito ma nessuno se l'è comprata direi 109 ho proposto da Quick direi che un sacco di gente se l'è comprata per rivenderla così a occhio proprio così così a occhio oggetti venduti scusate se non ve la sto facendo vedere fidatevi cosa ho cliccato? mi sembra che ho cliccato male ah ce n'è uno che l'ha comprata proposta era 65 euro ma l'ha fatta con proposta d'acquisto condividi la scelta dell'Oscar perché ha vinto l'Oscar di già ci sono stati gli Oscar? come si? io non lo so non l'ho seguito ah non ci sono ancora stati gli Oscar no ha vinto degli altri premi tipo non so quali ve lo dico aspettate il ragazzo il ragazzo e l'airone l'ironiu il ragazzo e l'ironiu allora accoglienza incassi critica riconoscimenti analisi critica cioè su wikipedia c'è l'analisi critica il mondo magico e lo studio Ghibli il ragazzo e l'ironi è uno dei film più personali del regista che combina elementi della propria infanzia con altri ispirati alle amicizie all'interno dello studio Ghibli Toshio Suzuki affermò che proprio questo punto messo in luce da Miyazaki in sede di presentazione del progetto nel 2016 fu quello che maggiormente lo sorprese essendo che egli aveva da sé madonna egli 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 ma chi cazzo scrive egli mio dio mamma mia la gente egli però Spider-Man è un film a metà non so se vincerà l'Oscar Spider-Man è una merda no non è una merda però è un film sbagliato Spider-Man Into the Spider-Verse è un film profondamente sbagliato per quanto mi riguarda è un film bello dal punto di vista tecnico divertente sicuramente ma che ha dei punti che secondo me non sono accettabili per un film in sala uno è il fatto che è un film diviso in due e che non ha praticamente nessun tipo di risoluzione e questa cosa non va bene nel senso che tu non mi puoi fare un film in due parti in cui però non c'è un finale sì ma non è non arriva non c'è un punto di risoluzione in quel film cioè non c'è un qualcosa che ti dica questo è il primo film questo è il secondo sono collegati non c'è letteralmente non c'è il film finisce così con un cliffhanger non mi puoi far finire un film con un cliffhanger è un film non è una serie tv non è abbiamo fatto questa cosa no a me è piaciuto solo spot ok ma il film è bello non è un brutto film non solo tutta la prima parte con no non sto parlando invasione di capre superstizioni benvenuti benvenuti tutti siete delle capre superstiziose vabbè stavo chiacchierando di in realtà di spider man in questo momento in to the spider verse dal mio punto di vista non credo proprio che spot sia stato creato da denslotto perdonami la macchia è stato creato da denslotto veramente mi sembra molto più vecchio è del marzo 95 che comunque non era non era denslotto è al milgrom cazzo dici leggo un sa sono creato dicembre dicembre 84 prima apparizione prima apparizione italiana nel 95 per qualche strano motivo ma prima apparizione americana dicembre 84 come è possibile che sia apparso nel marzo 95 in Italia vabbè al milgrom e nero trimpe maestro slot nella tua mente si è stranissima ste cose ma probabilmente perché è una storia che hanno recuperato perché nel 95 non stampavano le storie dell'84 sull'uomo ragno ma poi secondo me avevo sbagliato l'anno forse hanno sbagliato qualcosa perché è scritto l'uomo ragno 53 che non è uscito a marzo 95 l'uomo ragno 53 e di questo sono abbastanza sicuro c'era già Panini e Panini non ha scrampato neanche il numero 100 per cui sarà un errore di sbaglio a meno che non fosse no ma non era neanche stata resettata nel 95 quindi no è sbagliato comunque non se l'hai inventato cosa dicevo una cosa che a me ha dato molto fastidio nel film di Spider-Man è tutta la prima parte con Gwen la prima parte con Gwen sembra un'altra non sembra parte del film sembra come se fosse uno special che ci hanno attaccato davanti a me a me ha dato fastidio dal punto di vista cinematografico non è brutto ovviamente capiamoci non sto dicendo che il film sia una merda sempre Spider-Man però non è una cosa che ho gradito il prologo di Gwen si ma non è un prologo un prologo è ti faccio vedere Gwen che viene che diventa parte del 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 gruppo degli spider uomini multiversali quel che l'è ci sta non mi puoi fare mezz'ora di prologo prima del film cioè non mi puoi fare mezz'ora di prologo prima del film non ha senso a livello cinematografico che cazzo di senso ha cioè e poi la cosa si sposta su Miles e seguiamo Miles che cazzo di modo è di fare un film anche perché se non c'era quel pezzo funzionava perfettamente cioè se non c'è spero si veda in Madame Web ma chi? Spider Gwen? oddio non credo c'è il multiverso in Madame Web che casino non voglio vederlo comunque stavo dicendo prima di tornare al ragazzo del aerone questa discussione sulle variant le versioni limitate Giulio credo ha scritto sul gruppo sub no non mi ricordo se l'ha scritto Giulio l'ha scritto tu Giulio? eri tu vero? o era l'altro Giulio? ho letto solo Giulio non mi ricordo Tony Stark ha fatto anche cose buone ciao cicciorezza93 grazie per il follow io non ci sono sul gruppo sub perché non sei sul gruppo sub vieni sul gruppo sub punto esclamativo sub no è Giulio P quindi è PicPack ok l'altro Giulio che dice che secondo lui non c'è da farsi sulle limite ed non ci trova che debbano essere giustificazioni sul costo io non sono d'accordo Tony Stark ha fatto anche grazie per il follow Filippo un discorso è se tu fai una limited se l'autore fa una limited di un certo tipo per cui c'è un suo lavoro artistico e quindi dici ok la fa pagare quanto cazzo gli pare perché è un autore grazie Angelica per il ride benvenuti potere pelato a tutti e siete proprio delle capre superstiziose comunque dicevo un discorso è se tu fai una versione che c'ha dentro che ne so lo sketch magari c'è lo sketch in quella da 200 euro esempio cosa c'era in questa bellissima versione da 200 euro di Mercy 2 ah no però c'era lo sketch in effetti oddio con lo sketch può anche starci nel momento in cui è un autore che te lo oddio il fatto che te lo faccia venduto boh però se è uno sketch autografato a mano sì posso anche capirlo in questo caso perché c'è una parte manuale reale di un artista e quindi posso capirlo quello da 100 cosa aveva invece non lo so non ne ho idea quella da 100 non aveva un cazzo immagine è solo limited deluxe cioè è limited ed è deluxe c'ha la sovraccoperta e il cartonato e qua non ha senso qui sono 100 euro che tu gli dai perché vuoi credere che questa cosa vavrà di più un giorno e ci potrai guadagnare sopra spoiler no perché sono passati la bellezza di 4 anni e non è è ancora disponibile sul sito i miei mod ovviamente hanno fatto un sacco di so fatemi fare due so per le persone che hanno fatto un ride perché so walone grande walone e anche so angelica angelica con la c che è molto bello aspetta che non so com'è scritto il nick non mi ricordo mai una mazza e non c'è più non c'è più non c'è più c'è solo walone angelica angeli casbier colais ok ok vabbè evviva ho fatto anche il suo sono proprio bravo comunque 72 pagine 100 euro top è una versione limitata però il concetto è è una versione limitata per cui ti stanno fregando perché la realizzazione di questa edizione limitata non gli costa 100 euro e non gli costa 100 euro nemmeno in relazione a quello che è il normale guadagno su un albo non ha senso è una presa per il culo se l'avete comprata vi siete fatti fottere va detto che effettivamente l'unica esaurita è quella del numero uno però quella no non è vero neanche cioè questa edizione qua se uno l'ha comprata 100 euro del primo numero è ancora disponibile l'unica che è andata esaurita è quella con lo sketch in teoria del primo in cui 190 euro posso anche capirli perché se effettivamente sono state sketchate dall'autrice se è vero poi non lo so ma nel caso può avere un senso in realtà non c'è scritto nient'altro immagino sia vera chi lo sa comunque questo è il discorso per quanto mi riguarda c'è ancora qui l'edizione dell'artista ma è la stessa allora quello però è una roba un po' diversa perché quello è un'edizione estremamente particolare sicuramente gonfiata però è un'edizione estremamente particolare non è un normale fumetto con una sovracoperta e boh adesso io non so se questo era anche più grande non ne ho idea vediamo il formato no questo qua era anche più grande quindi l'aumento di prezzo ci sta non a questi livelli magari però è comunque 25x35,5 è un grande tesoro di Marvel per capirsi per cui è un po' averprezzato sì andrebbe capito quanti ce n'erano di sta roba 200 non lo so non c'è scritto tra l'altro comunque nel 2019 2020 poi ne si è fatta un po' prendere la mano nella maniera di Mirkandolfo sì un po' sì qualcuno gli è rimasto tutto invenduto l'unica cosa che si è esaurita sono i numeri 1 normale e ultra limited e immagino che chi si è comprato l'ultra limited per rivenderla anche se al tempo non era ancora di moda perché era il 2019 c'era un po' meno di questa cosa magari si sia rimasto inculato lo spero fortemente che sia rimasto inculato non amo chi compra solo per rivendere per guadagnarci sopra tipo leggo un sacco ciao leggo un sacco comunque dicevamo questo film non lo so io non lo so ho fatto un po' fatica devo essere sincero ho fatto un po' fatica ciao micchi sono anche andato a farmi un po' di visioni dei pensieri delle altre persone su questo film e noto un po' troppo quelli che sono estasiati da questo film per i significati che il film potrebbe avere sotto la superficie che si per carità è una cosa molto bella però secondo me un film andrebbe prima di tutto giudicato per il primissimo livello poi magari anche per il resto però ora io non lo so io ho visto i miei amici Chiri o Manzi che l'hanno visto in anteprima Luca che sono usciti e sembrava fosse la seconda venuta di Cristo devo dire che a me non ha fatto tutto questo effetto l'ho trovato un bel film con una realizzazione tecnica decisamente sopra la media nel senso che quando vi vendono come un film incredibile Demon Slayer e il treno Mugen che poi in realtà sono quattro episodi della serie tv con la qualità della serie tv ma che però hanno degli effetti speciali incredibili effetti speciali incredibili tecnicamente superiore a quelli di Shinkai è diverso è molto più allora quelli di Shinkai sono molto più freddi in realtà sotto molti punti di vista e comunque sì tecnicamente è una roba questo film maletti punti me.miyazaki beh però sei VIP no non sei VIP perché hai potuto scrivere me.miyazaki e non te l'ha censurato è strano o sei VIP e non lo vedo no non sei VIP che strano bizzarre si è rotto il sì si è rotto Twitch è bellissimo da vedere storia confusionaria è noioso sì sì da vedere è bellissimo sono d'accordo a me lo ha dato ah hanno fatto una modifica Twitch quindi che adesso io vedo cosa scrive la gente ma gli altri no ma è una roba geniale questa grande qualcuno mi scrive qualcuno che non è VIP mi scrive un link qualsiasi e lo so ma in genere non lo fa Giulio è questo il fatto in genere non lo vedevo e si leggo un sacco ma non è il titolo italiano è il titolo internazionale che è stato scelto a livello internazionale per cui perché mi è partita a Siria e si è messa a fare e ha cercato l'articolo costituzionale della Repubblica non lo so adesso non lo vedo non lo so ok è strano quello di prima l'ho visto ma questo no i grandi misteri della vita a livello visivo a livello visivo è come gli altri cioè nel senso si vede che comunque è cresciuto perché continuano a evolversi le tecnologie però alla fine il livello è sempre quello cioè il livello di fin di Miyazaki è sempre quello è difficile fare di più che cazzo ne so delle onde di ponio o della città incantata più di così cosa devi fare questo è molto bello perché ci sono anche delle scene un po' più diverse di come stile ad esempio all'inizio c'è una scena sull'incendio che è molto particolare bellina e comunque è animazione vera forse su certe cose è un po' meno della città incantata non lo so però dovrai rivederli insieme per paragonarli ovviamente però dal punto di vista tecnico è ottimo come puoi dire che lo studio Ghibli non c'entra niente con l'animazione giapponese in che senso perché non ci sono le tette non lo so cioè in che senso ma non è vero è come dire che Conan ragazzo del futuro non c'entra niente con l'animazione giapponese lo stile è esattamente quello di un film di Miyazaki poi ovvio che se tu hai un film di animazione giapponese ti aspetti l'animazione a basso costo delle serie tv ah ma secondo me la città incantata è miglia sopra questo film cioè ma non c'è dubbio cioè la città incantata è un film adesso se io dovessi in questo momento riguardare un film non riguarderei ragazzo c'è magari lo riguarderei per cercare di capire alcune cose magari questo sì che magari ti possono essere sfuggite a una prima visione però Makoto Shinkai il nuovo Miyazaki se dici qualcosa di questo tipo a molta gente penso che ti dà fuoco leggo un sacco a parte che non c'entra un cazzo con Miyazaki proprio per il genere di opere che fanno sono due attori completamente diversi ma ok però poi è normale che gli artisti abbiano uno stile loro si chiamano autori per quello cioè meno male che non tutti i film giapponesi sono tutti uguali però anche se guardi che ne so quello che era uscito poco tempo fa se non mi ricordo assolutamente il titolo quello un po' ispirato quello in stile Gurella Gun era uscito in un film al cinema anche l'avevo visto al cinema quello è molto poco tipico rispetto agli altri dipende ci sono tanti autori diversi ma perché devono avere inizio di cercare significati reconditi in tutto ma perché è un film che ha evidentemente dei significati l'oricchia cioè questo film non è un film fantasy di avventura e basta è evidente che Miyazaki vuole metterci dei messaggi il problema è se i messaggi sono provare eh promare promare esatto quello non è un tipico film giapponese è un'animazione particolare è molto figo a me è piaciuto parecchio a suo tempo quando l'ho visto al cinema molto da vedere al cinema perché con quegli effetti lì era molto però è ovvio che è un film che ha dei significati poi la gente esagera ogni tanto sì quello dei vigili del fuoco esatto qual è il mio film preferito di Miyazaki non ne ho idea sinceramente non Fire Force leggo un sacco promare che poi non si leggeva promare mi sa era tipo promare non mi ricordo aveva un nome cioè si leggeva in un certo modo che non mi ricordo più e direi che io non ho un film perfetto di Miyazaki però ti direi Mononoke Ime La Città Incantata e forse anche un po' coso All Promare scusami stasera sono dislessico vabbè ma figurati vabbè un film di trigger sì sì pieno di stelle vogliono fare una roba maranzissima ci sono riusciti sì 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 no Porco Rosso non è uno dei miei film preferiti di Miyazaki ma perché non l'ho mai visto come ho visto gli altri tipo al cinema e comunque hai un impatto maggiore gli altri credo di averli visti tutti al cinema gli altri questi che ho detto anche Mononoke Ime l'ho visto al cinema sapete che non mi ricordo se l'ho visto al cinema Mononoke mi sa di sì forse nella prima edizione Totoro ha visto che piace molto sì Totoro a me fa cagare questo è di Carliostro Lupin e non è Ghibli tecnicamente è Miyazaki ma non è Ghibli passò al cinema per un bel periodo fino agli anni 90 sì 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 ma mi sa che l'ho visto al cinema era il periodo in cui li portava Lucky Red tipo credo forse prima ancora era quando era Buonavista erano quelli in edizione Disney praticamente e poi c'è stato li ha rifatti Lucky Red con il doppiaggio nuovo di Cannarsi non è di Cann... non è di Cannarsi l'adattamento perché dovete dire sta cosa ancora dopo 20 giorni che è uscito non è adattato da Cannarsi questo film ma che purtroppo c'era Promer la formica e Anastasia di che stai parlando leggo un sacco ma non doveva avere poesia è un film ambientato nella seconda guerra mondiale non nel 400 avanti Cristo no no era Buonavista ma non ho che ime da noi quando è arrivato al cinema però ti rendi conto leggo un sacco che a questo punto è un film normale se io me l'immagino ad doppiato da Cannarsi con lui che costantemente li chiama sai che io sarò da d'ora in poi non lo so ma costruzioni strane per chi non lo sa Demon Days e Demon Wars sono gli unici di questo tipo usciti finora beh se intendi di Peach Momoko sì sono gli unici se intendi come tipo di volume no io ho anche quell'altro che è questo se intendi come formato cioè questo con la banda cioè questo qua è Amazing Fantasy ma penso ce ne siano ancora però io ho questi due se intendi la versione giapponese di Peach Momoko dei personaggi no c'è solo questi due io ammetto che c'erano dei momenti in cui mi stavo abbioccando però sono stanco in questo periodo dormo male e quindi intendo giapponoso eh no no sono solo questi due e sinceramente il doppiaggio va benissimo così io non oso immaginarmelo doppiato in Carnar Sese dovrebbero farlo tipo per l'edizione Blu-ray Ultra Limited doppia traccia in Carnar Sese sarebbe fantastico io lo vorrei devi fare l'analisi del sangue con la stanchezza è una cosa dovuta è dovuta che non dormo Giulio G tipo comunque è un'edizione per noi puristi è vero sono d'accordo non è che mi addormento sono stanco perché ho sonno sono andato a letto tardi e mi sono alzato presto e quindi avevo sonno sono andato al cinema a piedi dopo pranzo e quindi avevo sonno alle due era alle tre in realtà ma non è che sto collassando a me il prossimo sentimento di Erangelion di Carnar si piaceva ma perché non era di Carnar cioè ci aveva lavorato Carnar ma non era di Carnar Carnar si è bevuto no perdono perché poi mi mi querela Carnar si ha deciso di prendere un certo tipo di scelte lessicali che al tempo ancora non faceva ai tempi di Erangelion ha iniziato dopo quando ha iniziato ad avere più libertà creativa perché probabilmente se avesse fatto un adattamento come piaceva farlo a lui per Erangelion non lo avrebbero preso non è aulico o Carnar si mostrata azotata aulico vuol dire utilizzare un linguaggio vetusto e delle costruzioni vetuste cosa che Carnar si non fa Carnar si utilizza delle costruzioni in stile giapponese per l'italiano traducendo i suffissi a modo suo e quindi creando parole che in italiano non si usano tipo il costante utilizzo di nonnina nonnino eccetera o le costruzioni bizzarre a livello lessicale che sono quelle del giapponese riportate all'italiano è una cosa assurda è una scelta sua personale che personalmente non apprezzo anche perché ricordiamo che Carnar si fa ha coperto in questi casi dei ruoli per cui non ha studiato a livello diciamo universitario o banalmente anche semplicemente con un percorso di studi ufficiale se l'è fatto da solo questa cosa può piacere o la si può trovare abbastanza rischiosa se io fossi un'azienda che devo far fare un doppiaggio e un adattamento non lo faccio fare a una persona che non ha studiato per fare quel lavoro lì ad esempio perché non basta sapere il giapponese tra l'altro lui non traduce ricordo che le traduzioni non le ha mai fatte lui chi è che l'ha detta sfufu me la sono persa ma il giapponese non può banalizzarlo come fosse un film americano si chiama adattamento leggo un sacco cioè se tu trasformi il giapponese in italiano in teoria se tu guardi l'italiano guardi un film giapponese ambientato nel presente i personaggi dovrebbero parlare come parli tu non come parlerebbe un giapponese tradotto in italiano perché non ha senso cioè se tu fai una versione di latino la fai in italiano non la fai in italiano con la costruzione del latino perché non avrebbe senso adattare vuol dire quello rendere il film comprensibile ma non è vero questa cosa non è vera perché tu non tieni il senso originale leggo un sacco perché se io sono un giapponese e ascolto un film in giapponese lo capisco e per me è come se io ascoltassi una roba in italiano per me lettore o per me spettatore se sto guardando un film adattato devo comprenderlo allo stesso modo in cui lo comprenderebbe un giapponese per avere lo stesso tipo di effetto poi ovviamente c'è un minimo di tradimento ma è ovvio però non è che mettendomi le frasi a caso la prova è la versione di Cannarsi di Evangelion quella andata su Netflix non si capiva un cazzo c'è stato un mega casino con quella roba e non per niente l'hanno riadattata perché non si capiva oggettivamente nulla non si può fare di ogni opera del mondo è ovvio però ma il punto è che tu devi sfruttare nel modo più vicino a come la fruiscono non più vicino alla fruizione all'opera originale ma è Cannarsi stesso che una volta in una live ha detto testuali parole io non adatto per il pubblico io adatto per la mia visione di adattamento cioè il problema non era Berser che non era Apostoli per quanto poi scrivere tradurre Angeli in Apostoli quando la traduzione ufficiale internazionale è Angeli ed è scritta ovunque non ha senso evidentemente Stato di Furia fa molto Anconetano secondo me la scena di Eva dove cagli Gianna fia le piante me la sogno ancora la notte sì che cosa Evangeli Anconetano compresti comunque non ho capito la roba della lettura occidentale comunque Domenico dice le cose perché lo sai che si diverte a vedere le reazioni degli altri Salute Vesera buonasera come la va comunque non lo so il film a me è piaciuto però non ci riesco a vedere questo capolavoro inarrivabile che dicevano alcuni mi aspettavo di più devo essere sincero allora è come se c'è un arattamento del tedesco no no non è questo ho sbagliato cosa me la sono persa forse per me anche i manga li stampare la sinistra a destra ok Giulio ok è una stronzata questa è una stronzata perché ribalti non esofruisci come un giapponese per un cazzo sì sì ma è una cazzata perché lì vai a modificare direttamente il disegno ribaltandolo è tutto sbagliato è molto più semplice abituarsi a leggere da destra verso sinistra che doverlo leggere ribaltato perché ah però è più comodo per noi occidentali il problema ha lavorato in contesti seri le onomatopee le tradurresti dipende da come sono fatte le onomatopee sulla tavola se sono particolarmente grafiche no e ci metterei sotto la scrittina come spesso si fa tanto non cambia un cazzo è che dipende non è un gran problema secondo me modificare le onomatopee però dipende dal disegno se sono disegni particolarmente pieni è meglio lasciare in originale se sono quelle tavole molto ariose con un sacco di spazio bianco anche se se ci metti le onomatopee in italiano sopra non è che cambi molto però di base a me va benissimo che me le lasci in originale e mi scrivono sotto tic tic pum pum bam bam va benissimo sì ma raga ricordatevi che blam esatto ricordatevi che Cannarsi è arrivato a fare quel lavoro partendo da un forum di fan di roba di animazione io non so com'è possibile però è andata così cioè è andata letteralmente così e non sei andato a fare il redattore perché un discorso è sei uno che sta su un forum di fumetti sei molto attivo e magari una casa elettrice ti prende per fare il redattore è un discorso ma non ti prende a fare l'adattatore se non hai studiato per fare mediazione culturale o comunque roba per cui poi hai lavorato come traduttore e quindi sai adottare una roba e hai una conoscenza specifica e comprensibile di come si fanno certe cose e in Italia questa roba viviamo in un paese strano comunque è un proto-influente ma no è una cosa strana io non so come ci sia come sia andata però boh è che lui si è preso sempre più libertà cioè lui ha partito con i film Ghibli e piano piano è diventato sempre più pesante il suo influsso sulla traduzione ed è evidente entrastrure eh entrastrure entrature entrature ho detto entrature non lo so prima di ogni battaglia i ferri guerrieri entravano in uno stato mentale di furia simile alla condizione di trance detto bersergang ok l'ultimo adattamento di Netflix era una lingua nuova in pratica si si ma cos'è un'entratura non credo sia italiano entratura entratura forse si entratura entrata ok delle entrate possibilità di addirgli a persone influenti godere di molte entrate ah non ho mai sentito questo modo si vede si impara sempre si impara sempre cazzo Stone Angel entrature mi mancava proprio come modo per dire raccomandazione fondamentalmente strano vabbè si impara sempre qualcosa mai sentita e buon salve pavilion comunque e ribadisco il film a me il dissing del giorno è un doppiatore che mi è uscito su tiktok ospite di una live che si lamentava nel doppiare anime apprezzava nei commenti lui mi lamentava pure che è un lavorone anche fare le urla ti pagano meno di un film ma ha ragione probabilmente doppiare anime è una vera merda nel senso che i tempi spesso sono ristretti e boh tra l'altro io mi sto guardando Dragon Ball ed è un incubo è letteralmente un incubo il doppiaggio di Dragon Ball tra l'altro la cosa veramente triste è che su Prime Video ci sono i doppiaggi mediaset anche dei film i doppiaggi mediaset dei film sono veramente una roba mi rimane come ho pensato che è un lavoro non è che devono fare per forza i doppiatori quello storico dici sì esiste il doppiaggio di Knit era un po' meglio di quello mediaset io capisco per la serie per la serie ok esiste solo quello ci sta ma il doppiaggio dei film era un po' meglio quello originale per quanto mancasse le voci a cui siamo abituati non ho un doppiatore preferito e Pino Insegno non lo posso sentire io ormai ogni volta che guardo Signore degli Anelli ogni volta che parla Aragorn mi immagino la faccia di Pino Insegno senza contare che Pino Insegno è fascio ma questo è un altro discorso io vabbè mi dissocio da Pino Insegno fascio ovviamente era una buttad una battuta Tonina Colla mi ha sempre fatto cacare da sempre proprio non l'ho mai apprezzato non apprezzo che un doppiatore crei delle cose che non ci sono in originale mi spiace un discorso è cambiare certe battute nei film perché in italiano non sono comprensibili un discorso è modificare il doppiaggio per me il fatto di creare una risata che non c'è di creare suoni che non esistono in originale non è una cosa positiva è sbagliato è proprio una roba che non dovrebbe esistere tu non ha io non voglio guardare la tua versione di un prodotto cioè il doppiaggio per me dovrebbe essere il più vicino possibile all'originale quando possibile poi è ovvio che ci sono dei casi in cui non è possibile perché banalmente certe battute vanno modificate per una questione di comprensibilità cioè Austin Power temo che senza fare le battute italianizzate sarebbe stato impossibile e lì lo capisco ma Tonino Accolla è la risata di Cosima senza contare il fatto che viviamo in un paese in cui un doppiatore che non ce la fa più solo perché ha un importante attaccamento a quelli con cui lavora viene continuato ad essere a lavorare ragazzi guardatevi l'ultima stagione dei Simpson doppiata da Accolla che povero Cristo con tutto rispetto per lui non ce la faceva più perché stava male era malato ma è inascoltabile è inascoltabile e per carità io non dico che sia colpa sua però lo è cioè c'era Homer che sembrava che non sapesse più parlare e tu dici ma scusami non non ve ne siete ancora resi conto mentre lo doppiavate che non ce la faceva e non è e non è fare cioè è un lavoro per cui ti metti in malattia se non so come funziona nel mondo del doppiaggio però cioè che modo di fare è io non mi ricordo se l'ho vista e già sapevo che stava male o se l'ho vista dopo non lo so però non seguo sinceramente il mondo dei doppiatori leggo un sacco per cui non ho idea di come sia Merluzzo come doppiatore non è una roba che mi ha mai interessata sinceramente il mondo del doppiaggio per cui non li seguo non ti so dire chi è chi va molto banalmente mi ha fatto strano oggi perché oggi guardavo un po' sta roba però perché stavo guardando di Dragon Ball perché ero curioso di capire che adattamenti c'erano dei film mi ha fatto molto ridere che nei due film di Dragon Ball attuali gli ultimi cioè quello della battaglia di dei e quello di Freezer e tipo hanno doppiato i romani e non i milanesi e quindi le voci sono quelle del doppiaggio di Nick non seguo YouTube su non seguo Merluzzo come YouTube non è vero che parla di manga e anime smettiamola no mi dispiace Meld ma tu probabilmente non ti ricordi com'era l'ultimo a colla ah beh allora parla di anime e manga è un creator anime e manga proprio se ha parlato di quello raga nelle ultime stagioni nell'ultima stagione che ha doppiato a colla non riusciva a parlare poi non ti può non piacere Lopez legittimo ma parla cioè è capace di parlare riesce a parlare Omer ansimava in quella stagione cioè aveva la voce che non non era più la stessa voce sembrava una voce di no e neanche il tono e anche il tono e la voce erano diversi non è che biascicava e basta biascicava tanto e non è accettabile se stai facendo un doppiaggio professionale dai poi non so dove fossero loro erano a Milano o Roma a me sta cosa dei doppiatori milanesi e romani mi fa morire da ridere comunque c'è questa guerra fra i due mondi del doppiaggio italiano con le famiglie con ah no guardate per cui dobbiamo chiamare i doppiatori romani non possiamo fare questo doppiaggio alle voci che la gente conosce useremo altre voci nessuno non lo puoi sapere Oxino potrebbe essere potrebbe essere di no che puoi dirlo perché mi fai questa domanda notificamelo per pura curiosità intellettuale rabbrividiamo no oggi non c'è il sacchetto ho visto stavo parlando del ragazzo del erone ma presto finirò e andrò a mangiare e comunque tirando le somme chi di voi l'ha visto sto film perché io voglio capire se sono l'unico stronzo a cui non l'ha fatto impazzire a me mi è piaciuto non dico che sia un brutto film però rispetto agli altri di Miyazaki a cui sono anche più affezionato non mi ha preso ho trovato certe scelte un po' veloci un po' strane poi non voglio fare spoiler però non lo so non mi ha completamente convinto anche un po' rapido secondo me cioè nel senso il film fondamentalmente ha una prima parte che dura un'ora che è ambientata nel Giappone della seconda guerra mondiale e poi c'è la seconda parte che è la parte un po' più fantasy il problema è che secondo me la seconda parte è un po' lasciata perché non ti dà spiegazioni ma a me è piaciuta di più la prima perché la prima comunque funzionava aveva quel classico ovvio un po' lenta sì ti deve piacere non è per tutti non è non è l'anime di botte però aveva il suo senso aveva il suo le cose funzionavano ti descriveva bene i personaggi c'era un po' di mistero le cose strane che accadevano quando poi si passa dall'altro lato diciamo e tutto diventa super veloce non ci sono spiegazioni su quello che accade ci sono vedi questi luoghi che vengono accennati ma boh ci sono fatti che avvengono ma tu dici boh ma anche certe robe io non capisco le scelte che fa lui e le cose che accetta e di cui si rende conto io non riesco a viverne il momento in cui effettivamente lui arriva una certa consapevolezza o che sembra quasi che boh non ti vengono narrate succedono e basta e a me non ha fatto piacere cioè l'ho trovato secondo me in un film le cose non devono succedere basta del tutto cioè senza un minimo di approfondimento spiegami cosa sto guardando nel senso se no diventa una un cioè stile così pura volevo mettere in scena questa cosa l'ho messa in scena eh ho capito però boh questo è un po' piatterello sì tra l'altro però il protagonista ci sta cioè nel senso allora ho visto prima una storia di Kirio la storia di Kirio che dice ve la faccio vedere andiamo se la ribeccolo ho visto la prima su instagram ma lui parebbe che non voglia farne un'altra però chi lo sa magari o sta male cioè prima ho visto una storia di Kirio che diceva questa cosa qua vediamo se la trovo forse non so se era una storia o no era uno short era stato non c'è non c'è più ril ah sì è questo ma non si capisce nulla un giovane ragazzo perde tragicamente la madre e da lì parte un viaggio di crescita verso la sua elaborazione del lutto beh e no se non no ok d'accordo io capisco però no non è questa la trama cioè nel senso sì ok un po' generale però nel senso è un soggetto non è neanche una trama poi per carità non è troppo complicato e non si capisce nulla si capisce quello che non si capisce secondo me è cosa voleva farti passare Miyazaki questo non si capisce infatti se tu vai e fai un po' di giri attorno ci sono 7000 milioni di interpretazioni del film però quando l'interpretazione diventa talmente personale che ognuno può pensare quello che vuole eh vabbè grazie allora ribadisco metto in scena delle scene un po' a caso e puff ho fatto il capolavoro eh sì esatto Calvino è un tizio non è un tizio peloso è un tizio con i piedi pelosi parte per distruggere un anello potentissimo trama no cioè un po' più complicato di così cioè la trama è un po' più è youtube c'è 151g che fa un'analisi non lo voglio vedere l'analisi 151g grazie e comunque non faccio reaction e no non la voglio vedere grazie con lui amici cheat con lui con lui alcuni amici cheat ah sì ok mi ha detto che va a pensare allora facciamo questo film inserisco un po' di temi poi mi ritiro e mi lascio a farsi le pippe mentali va bene raga allora c'è una cosa che va capito buonasera nella live pubblicata su cantina pelata manca l'audio no ma in che live è strano che manchi l'audio può essere che sia youtube che non ha finito di fare del coso ma mi sembra poco probabile aspetta che guardo manca claudio non l'audio leggo un sacco è una battuta questa cosa bellissima che ha appena scritto ogni tanto youtube lo fa comunque raramente ma è capitato a persone vediamo e mi si apre in qualche modo dai youtube però minchia due ore hai mai visto un hobbit nudo non manca l'audio però si è bloccata youtube allora nel tuo studio grazie alleluia pubblicato questo no da me c'è ho detto i led alexa accendi i led no si è giusto no sai cos'è può essere che ci siano dei problemi con la qualità di alcune cose probabilmente non ha finito di farla si vede che si è incasinato youtube e quindi avrà creato dei ritardi e in alcune versioni non ci sarà l'audio però questo c'è anche mettendolo a 1080p boh a me lo so si sente prova a cancellare tipo a spegnere o ricollegarsi insomma boh non lo so magari dall'app ha fatto casino e al momento non si sente poi si sentirà può anche essere aspetta fammi vedere dall'app magari dall'app non va neanche a me youtube magia di youtube apriti cantina pelata dall'app va e vabbè fammi vedere anche a me cantina pelata pubblicità dai che guadagno dei soldi sono tornato e non ho acceso i led grazie del follow trap pit termine funziona va bene grazie della fiducia ricontrollo anch'io perché ribadisco a volte ci sono sti casini hai mai fatto un capodanno in casa senza luce che domanda è manca clave non la e cosa stavo dicendo mi sono perso anche star un giovane ragazzo parte per risolvere un'arma potentissima è vero però non è un anello la cosa che vorrei dire per concludere un po' il discorso è che è un meme quella domanda ok potresti uccidere potresti allora se citate dei meme di tiktok potreste farmi un favore e lasciare il canale grazie a parte questo ciao dicevo è sempre un errore quando ci si fa troppe pippe sulle opere degli autori spesso quando tu ti fai delle grandi pippe sulle opere degli autori e poi ti trovi a chiedere questa cosa all'autore ovviamente l'autore ti guarda e ti guarda in modo stranito e ti dice ah quindi tu ci hai visto questo spesso e volentieri la gente cioè l'autore quando fa una roba non ha tutte queste cose in mente spesso però qualcosa si è ovviamente no non dicevo a te dicevo a chi l'ha citata detto questo facciamo tiriamo le somme del ragazzo dell'airone è un tecnicamente un bel film divertente comunque non è brutto da guardare sicuramente c'ha un sacco di significati sotto fra cui quello che diceva Kiri ovvero l'elaborazione del lutto nei primi tre secondi muore la mamma del protagonista ma proprio nei primi tre non è neanche uno spoiler si lascia più domande che risposte e non va bene sono d'accordo è un po' troppo criptico secondo me perché non è che ti lascia domande su quale può essere solo l'interpretazione è che tante cose che vedi nel film non sono così comprensibili ciao fractlive non soltanto a livello di significati ma proprio a livello di quello che stai guardando i pavocchetti che cazzo erano perché erano lì sì perché c'è che qualcuno che però un po' non lo so considero il primo episodio pubblicato su netflix di one piece dove l'animazione è migliorata di botto rispetto a tutte le altre stagioni cos'è il primo episodio pubblicato su netflix di one piece non so di cosa stai parlando giulio c'è one piece su netflix non so di cosa stai parlando la serie live action è arrivata la versione animata della serie nuova della stagione nuova la saga di egghead non so cosa sia egghead ah quella è arrivata anche in italia ma doppiata no sono titoli doppiato no allora non lo guarderò ma non ho netflix tanto lo devo fare netflix lo so però non ho tempo di farvi guardare le robe per cui comunque bene avete domande volete che vi dica qualcos'altro c'è qualcosa che posso esplicarmi ora c'è il doppiaggio di pluto potrei guardare pluto doppiato potrei leggermi il manga forse mi rileggo il manga piuttosto però doppiato vedete doppiato io lo lascio su e intanto faccio altro il solito discorso il manga mi dà più emozioni giusto non so ditemi voi se c'è qualcosa su che volete che vi approfondisca sul film o su altro se no vi mollo e vado a fare delle robe perché poi ho delle cose da fare vedo che Uesa sta facendo un ufufu sulle donne volete che vi mando la Uesa vedo un ufufu su donne puppute domanda off topic è per caso l'ombro delle storie di Alias no ce l'ho 100% Marvel questi prezzi me li farò passare ottima cosa li Pluto fanno ridere quelli che vedono l'usato a 150 euro quando si trova nuovo dappertutto vabbè la gente è sempre strana c'è Nicole sempre che intervista caverna si non so perché dovrebbe farlo ma ok interessante Nicole che intervista caverna è più interessante Nicole che intervista caverna perché vuole fare più views avendo caverna sul canale o caverna che accetta di farsi intervistare da Nicole non lo so facciamo se ho fatto il cofanetto di Blame 100% ma lo faceva cagare se non ricordo male quel cofanetto acquisti albi variant americani originali no anche perché c'hanno il codice a barra e mi farà cagare grazie Giulio perché sono più bello sia di Nicole che di caverna ovviamente andrei a vedere povere creature non so nemmeno cosa sia Mel 100 views non c'era mai arrivata la somma idea è sulle 40 vabbè c'è Domenico ragazzi c'è senza il cazzo cioè hai visto Echo purtroppo sì Lone Wolf ma com'è possibile che si sia rovinato Lone Wolf è di cartone duro Lone Wolf boh io ho visto i primi due non mi sembra malaccia è una merda già il secondo era brutto ma poi peggiora l'ultimo episodio è da mettersi le mani direi nei capelli ma non nelle orecchie così però ne sembra così sembra che voglio dire che devi diventare sordo anche tu nel culo nel culo è una di quelle serie veramente andate a riguardarvi lo scontro con Daredevil io ho visto dei video su YouTube in cui ti dicono la prima volta che lo guardi non ci fai caso perché dici oh che bello c'è Daredevil se lo guardi bene non si toccano cioè in tutto lo scontro ci sono loro che fanno ma non si toccano è proprio così no Giulio non mi interessa non guardo cioè mi fai un cazzo quando arriva lo guardo non si toccano raga non si toccano e l'evoluzione che fanno fare a Echo è imbarazzante ma è oggettivamente imbarazzante tu vuoi fare una roba realistica crime un po' nella prima scena ci sono gli indiani magici coperti fatti di terra che poi diventano indiani veri nella prima scena della serie gli indiani magici siamo gli indiani magici abbiamo i segni sulle mani la caverna di Platone comunque no la caverna graffia è fatta bene solo che non si toccano cioè questo è il problema è che è fatta benino ma non si toccano si vede che non si toccano non dovrebbe capirsi che non dico che si devono picchiare davvero però se è uno stuntman dovresti essere in grado di far sembrare vera la cosa non è vera cioè si vede che non è vera ma non mi interessa Mattia sto anche staccando comunque no eco veramente boh boh what if alcune carine altre bruttine ovviamente l'episodio sulla supereroina indiana ha fatto di merda come tutti le robe in cui cercano di essere politicamente corretti creiamo una nuova supereroina indiana perché non ne abbiamo mai avute nella marvel no invece si però facciamo finta di no come la facciamo ma non lo so prendiamo allora un'adolescente nativa americana e la facciamo essere il personaggio più figo e potente mai visto senza alcuna ragione plausibile che origini può avere ma guarda mandiamola in un buco spazio temporale in un lago dove finisce in un mondo dove ci sono tutti i suoi antenati che sono finiti lì piano piano negli anni cadendo nel brapozzo e hanno guadagnato incredibili poteri però lei stando lì 5 minuti diventa la più potente di tutte senza alcuna ragione logica perché perché è figa perché è giovane indiana e quindi ci serve e oltretutto facciamo anche che diventa un personaggio cardine potentissimo dal livello di Thanos con le gemme dell'infinito perché sì no LGBT non si capisce potrebbe ma non si capisce però ce lo teniamo per il prossimo episodio non avranno ancora deciso strano che non l'abbiano ben delineata ma mi pare che non viene esplicato in alcun modo almeno per ora a me Loki è piaciuta Wandavision è piaciuta ma anche Okai è piaciuta questa è terribile no motif non è terribile alcune sono divertenti di episodi tipo anche quello con Capitan Carter anche se mi sta sulle palle Capitan Carter era carino tipo nel 1802 boh era simpatico quantomeno orribile tipo quella di Happy Hogan terrificante non è bruttino è probabilmente una delle migliori computer graphic mai fatte per una serie serie per un prodotto seriale ma non so come puoi definirlo bruttino è veramente fatto bene non è un Hulk Hogan Happy Hogan potete dire che anche se non senti dai difetti probabilmente quella che ho detto di più è quella suela sì era carina quella suela era un po' stupida in realtà cioè era un po' io l'ho trovata un po' pesante come perché hai sempre i soliti temi cioè Ela non è cattiva Ela diventa cattiva perché ha un padre abusivo e boh cazzo ma possono esistere anche le donne cattive cioè Ela nel film è super malvagia appunto qui no qui Ela capiamo che Ela in realtà non era super malvagia Ela era buona però siccome Odino è un padre stronzo e violento e che mette sulla figlia un peso tutto allora lei è diventata malvagia gli ha rubato il cagnolino e l'ha trasformata in un cane malvagio cioè sai come la potevi fare questa serie in cui Ela era comunque stronza la potevi fare esattamente così uguale tutta uguale ma alla fine Ela dimostrava non diventava l'eroina bianca ma dimostrava di essere stronza davvero quello su Peter Quill sì non era malvagio effettivamente era carino invece no perché comunque se tu ci fai caso loro devono sempre far passare il messaggio cioè mamma mia senza contare che io non trovo la necessità di fare l'episodio fill-in cioè l'episodio totale alla fine che è sempre una merda come era una merda quello della stagione prima quello di questa stagione è forse anche peggio cioè non serve ricicciare fuori gli episodi hai infinite possibilità inventati delle cose fighe usa personaggi anche magari che non sono apparsi nell'MCU di già cioè che ti f*** se li tengono buoni per carità che è il più grosso limite in realtà di What If What If sarebbe molto più figo se fossero un po' più liberi di usare quella quantità di materiale possibile che hanno a livello di diritti Marvel però non possono farlo perché è una serie MCU e quindi devono usare quei cazzo di personaggi MCU che sono quattro in croce alla fine qui c'è Iron Man c'è Thor sono sempre quelli e no lo so infatti il problema è quello secondo me sì quello di Thor era orribile non me lo ricordo più fortunatamente ma non è vero TNED in Agent of Shield c'è pure Ghost Rider macchina che arriva direttamente dai fumetti hanno fatto la roba nello spazio nel futuro c'è un sacco di roba in realtà in Agent of Shields erano molto liberi in realtà volendo ma sì c'era il Thor compagnone tipo adesso non mi ricordo che cacchio succedeva l'ho cancellato però sì sì quello di Iron Man era della prima stagione lo so perché era uscito il set Lego io mi sa che non ho visto l'ultima quella del tempo l'avevo vista però mi sono perso qualcosa però non so cosa comunque sono stanco è uscito il gioco di Pokémon con le pistole comunque quella più brutta è quella di Iron Man che ti potevo spiegare Iron Man non te la spiega sì vabbè in verità lo ha definito così che cosa Giulio non è Pokémon con le pistole onestamente tra le tante serie continuo a preferire la prima di Daredevil cosa non è Pokémon con le pistole Giulio quel gioco in cui hanno rubato il cioè l'aspetto fisico dei Pokémon mi ha rubato è evidente cioè sono proprio copiati e gli hanno messo le pistole c'ha tipo 70.000 cose che puoi fare secondo me è una fregatura ma è una mia impressione quello tra l'altro io non so come sia possibile pubblicare una roba del genere perché non è un gioco ispirato ai Pokémon in cui ho creato dei simpatici mostri no no sono proprio copiati cioè certi sono uguali col colore diversi le armi ma non Giulio io non voglio dirtelo non se l'ha inventato JTaz se ne parla da mesi che è Pokémon con le pistole è letteralmente Pokémon con le pistole non se l'ha inventato lui se prendi se prendi un video in cui c'è dei Pokémon con le pistole Offtopic ho recuperato la saga dell'evento Infinity di Ickman forse mi aspettavo un po' di più l'autore mi ha lasciato piuttosto tepidino Infinity non era un gran che effettivamente credo non me la ricordo nemmeno molto bene Infinity ma era un corso un po' in mezzo lì così ma sì non era molto bello ma è che fanno un gioco bello sui Digimon non lo so non ci ho mai provato a giocare i giochi Digimon ma di chi parla JTaz non ne ho la minima idea non lo seguo parla di roba pop cioè fa quello che faccio io ma in modo intelligente quindi non oh guardate c'è uno che sta pubblicando se volete su uno dei soliti canali pirata stanno mandando in onda la principessa Mononoke se qualcuno vuole rubare dei soldi a qualcuno di chi è la principessa Mononoke posso segnalarlo a qualcuno che schifo dovrebbero veramente Twitch dovrebbe vergognarsi su questa cosa cioè Twitch dovrebbe vergognarsi di lasciare che la gente utilizzi il proprio canale per solo mandare in onda pirateria è una roba inaccettabile inaccettabile comunque a questo punto io vi saluto vi mando da Wesa e boh vai Giulio io adesso io non l'ho mai ascoltato JTaz però non è che mi dà questa boh boh non lo so comunque dovrei seguirlo per dare un'idea però non lo so vi mando da Wesa che sta guardando delle donne così è contento il pubblico maschile sì ma non è illegale e non è Twitch che manda in onda ragazze mezzanude sono le ragazze mezzanude che vanno in onda su Twitch e non c'è niente di male secondo me finché non fanno cose troppo eccessive la pirateria è un reato e non lo puoi fare anche perché hai le sabattive stai guadagnando dal mandare in onda materiale pirata è illegale stai frumentando un reato tecnicamente questo è un reato non è banalmente è perché tu stai condividendo in cambio di soldi un materiale piratato reato e non è nemmeno sto facendo la reaction no no e poi è soltanto lo schermo per riparare pubblicato cioè tu non ci sei nemmeno non lo so Tined comunque vi manderò da Wesa un canale bellissimo che guarda cose bellissime stai facendolo ancora ci vediamo domani alle 18 con il sacchetto ma non è vero Dario ce n'è molto meno oggi di quanto ce n'era due anni fa su non fare il solito vecchio per favore comunque potete non lo so Tined che cazzo ne so leggiti gli X-Men di leggi di New X-Men di Morrison oppure leggiti Howard il Papero ciao